Pellicola magistrale sulla vita dell'attore napoletano Eduardo Scarpetta. L'interpretazione di Tony Servillo incanta per arguzia e bravura nel restituire il lato più cinico del personaggio. La regia di Martone è ricca di riferimenti artistici importanti. Brillante la sceneggiatura e la performance degli altri attori. Il film ha ricevuto ben 14 candidature ai David di Donatello 2022, vincendo nella categoria miglior attore non protagonista per Eduardo Scarpetta e miglior costumista per Ursula Pazzac.